Baldelli, i suoi cartelli sono stati presi di mira, quando è successo? Questa notte ci raccontano dei cittadini che nascondendosi nel buio delle vie della nostra città, alcuni, quattro anzi, loschi figuri con armati di vernice e pennelli hanno imbrattato i nostri manifesti. Probabilmente le nostre battaglie danno fastidio, ma non sono questi gesti che ci intimoriscono. Sono successi anche altri atti? Sì, alcuni episodi in giro per la provincia di manifesti strappati o imbrattati, ma è chiaro che questo non ferma le nostre battaglie, ma ci dà ancora più energia nella difesa dei diritti dei cittadini e dei nostri territori.